Allora ragazzi, per gli amici del piccolo, anche quest'anno siamo qui per la 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana e per la 15esima edizione di Casa Sanremo. Casa Sanremo che anche quest'anno avrà l'onore, no, l'onore no, avranno loro la pazienza di sopportare la mia presenza sabato, sabato durante la giornata mi esibirò con Jimmy, appunto che è il mio nuovo sinfono, ma parliamo piuttosto di Sanremo. Quest'anno rispetto allo scorso anno sicuramente la città è molto più viva perché è aperta al pubblico, quindi la gente c'è, ce n'è veramente, veramente tanta, i ristoranti pieni, lavorano per fortuna, meno male, buon per loro visto che lo scorso anno chiaramente la situazione era molto più emergenziale, visto che eravamo in piena seconda ondata. Una piccola curiosità, quest'anno il red carpet non è red, ma è green, visto che si mantiene un po' il discorso del green appunto che ci ha accompagnato in questi ultimi 12 mesi, ma siccome noi quest'anno qui da Sanremo abbiamo sviluppato dei poteri magici, in pochissimi secondi possiamo proiettarvi direttamente davanti all'Ariston, la magia dell'editing. Ed eccoci qui, come promesso, davanti all'Ariston, mancano poche ore, tutto è pronto per questa 72esima edizione del festival e quindi non ci rimane che augurare a tutti voi e ovviamente a tutti i cantanti in gara un buonissimo festival di Sanremo.